Come si fa a crescere su Instagram con i Reels? Ma soprattutto perché tu che sei un filmmaker ci vieni a parlare di questa roba che è più legata al mondo del social media management? Perché da qualche mese a questa parte sto producendo contenuti per questa piattaforma. Per Instagram sta andando bene, ho fatto ovviamente tanti errori in questo percorso che sta continuando, ho capito altre cose, quindi voglio mettere a disposizione tutti i trucchi e tutte le cose che ho imparato in questi mesi sperando che vi possa tornare utile. Perché? Perché se sei un filmmaker o diciamo in generale un content creator è importante capire bene le piattaforme dove andiamo a pubblicare contenuti per avere un pubblico sempre più grande. Se non mi conosci sono Gianmarco Capri, filmmaker e fondatore di Montalo, la community per chi ama realizzare contenuti video e l'academy per chi vuole diventare un professionista. Ti lascio tutti i link in descrizione. E ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per sostenermi e rimanere aggiornato su tutti i video che escono sempre il mercoledì. Partiamo quindi subito con tutti i trucchi per far esplodere il tuo profilo e per diventare veramente un content creator professionista. Primo aspetto importantissimo, basta autoreferenzialità. Ti ricordi fino a qualche tempo fa quando Instagram era fondamentalmente un contenitore di foto e quindi tutti noi eravamo portati a condividere, a postare le foto più belle, belle location, bei visi? Ecco, secondo me a meno che tu non faccia parte di una nicchia che punta solo ed esclusivamente sull'estetica, quindi se hai un modello o una modella e quindi fai quel tipo di content, questa cosa deve finire. Scrollare un feed dove ci sono solo foto non è informativo, non mi stai dando alcun tipo di valore, non c'è alcun tipo di ragione per cui io ti debba seguire, a meno che tu non sia già un influencer o una modella oppure abbia un'estetica di un certo peso, ok? Possiamo sfruttare il fatto di essere di bell'aspetto, ma quello non deve essere l'unico scopo del nostro profilo. Quindi, chiarito questo, che è un aspetto importantissimo e introduttivo, passiamo al prossimo consiglio. Ok, voglio cominciare a fare questi reel e adesso che faccio? Devi trovare un argomento. Vuoi fare dei reel a tema cucina? Perfetto! Ti vuoi occupare di psicologia, di gaming, cinema, serie tv? Qualsiasi argomento sia, cerca una nicchia ben precisa. Questo termine lo sentiamo tantissimo ormai e ovviamente devi puntare su una cosa di cui ti occupi, che ti piace particolarmente o di cui sei parecchio esperto. Poi ovvio, puoi avere la fortuna come me di incappare in una nicchia abbastanza inesplorata, perché ti faccio il mio esempio, i classici tutorial su YouTube esistono praticamente da, non lo so, forse 12 anni, 15 anni, non lo so, tantissimo tempo, ma in formato breve era una formula abbastanza nuova quando ho cominciato io ad aprile di quest'anno, ok? Quindi anche per questo ovviamente sta andando bene, perché è qualcosa di nuovo. Però a quel punto bisogna pensare al format. Cosa significa questo? Significa prendere tutte queste idee ipotetiche di content e dargli una forma concreta, vera e propria, ossia come è strutturato il mio reel, quanto dura, ha un intro, ha un outro, la CTA è girata in un certo modo, è montata in un altro e se avete dei dubbi e non trovate un format adatto ai vostri argomenti, dovete fare una semplice cosa. Prendete il telefono, cominciate a scrollare, non guardate più i video dei gattini o le cavolate, i trend e queste robe qui, andate nella pagina Esplora e cercate all'interno delle pagine dei content creator americani e inglesi qualche idea, qualche spunto. Si sa, non è un segreto, che tutti i nuovi trend o comunque gli aspetti più interessanti del web vengono sempre da quel mondo lì. Vedete se c'è un creator come voi che si occupa della stessa cosa, ma in America o in Inghilterra e prendete ispirazione e cercare di creare un contenuto video che sia veramente accattivante. Ma come si fa un contenuto video accattivante? Ora vi do una struttura classica, ma che funziona sempre. Tre parti fondamentali per i vostri Reel. Il primo è Look, l'uncino sia l'intro che permette di catturare l'attenzione del vostro pubblico che sta lì sul telefono a scrollare, si sta annoiando e ha bisogno di essere stimolata. Serve un titolo che non sia né troppo clickbait, ma non sia neanche troppo piatto, altrimenti la gente skipperà quel contenuto e ovviamente anche nella creazione dei titoli e di introduzioni ci vuole un po' di tempo, un po' di pratica. Fatto questo, quindi catturata l'attenzione con Look, si passa alla Solution, quindi la soluzione del problema. Se state creando dei contenuti informativi e io in questo video parlo di questo perché ovviamente faccio questa tipologia di contenuti, ancora non faccio i balletti o l'ipsync e non credo che li farò, nella parte della soluzione andate a dare delle informazioni al vostro pubblico e dimostrate non solo di saperci fare, ma li risolvete proprio un problema pratico, quindi il pubblico che sta lì, la persona che scrolla, guarda il contenuto, è contenta perché gli state risolvendo un problema o gli state insegnando qualcosa. Ultimo aspetto importantissimo, quindi il terzo, è la CTA, la call to action, quindi chiedete al vostro utente che sta lì a guardare di fare qualcosa per voi. È importantissimo, potete utilizzare quella che utilizzo io, seguimi per altri tips, oppure salva il tuo video per dopo, condividi il reel con un tuo amico, insomma a seconda ovviamente dell'obiettivo che avete. Se volete aumentare il vostro pubblico, ovviamente chiedere all'utente di seguirvi, secondo me è la cosa migliore. Il rischio di non mettere una CTA alla fine del video è che quella persona scappi e non ritorni più sulla vostra pagina, quindi è importantissimo anche questo aspetto. Avete capito quindi che dovete fare i reel? Avete trovato l'argomento? Il format? Adesso serve la programmazione. Quanti reel potete fare a settimana che sapete gestire? Uno per cominciare? Un po' poco, diciamo minimo due o tre. Ne sapete gestire anche cinque o sei? Ben venga. L'unica cosa che vi dico è di partire piano, perché tanto ci saranno errori, bisognerà migliorare, bisognerà aumentare la produttività e il rischio di sparare troppo alto, cinque reel a settimana ad esempio, rischia di deludere il vostro pubblico. Prendetevi un impegno, dite che pubblicate due reel a settimana il martedì e il giovedì, ogni martedì e giovedì pubblicate quel reel cascasse il mondo, ok? Questo vi permette di entrare anche in sintonia col vostro pubblico, che è contento, perché in qualche modo si sente coccolato da questa continua produzione di contenuti e la costanza quindi è la prima cosa che viene premiata. Quindi partite piano. Secondo me tre reel a settimana, che è come faccio io, è un ottimo compromesso, perché ovviamente la produzione di questi contenuti si deve incrociare con la vostra vita lavorativa, la vostra vita privata e tutto quello che facciamo normalmente all'interno della giornata. Ecco perché l'organizzazione è importantissima. Se avete una programmazione settimanale e ad esempio lavorate da lunedì al venerdì, lasciatevi il sabato mattino, il sabato pomeriggio per fare i vostri reel settimanali. Riuscite a farli tutti nel weekend? Perfetto! La vostra settimana successiva è pronta. Se riuscite a farne anche di più, come adesso a me capita, perché sono diventato diciamo un po' più veloce, organizzato nel creare questi contenuti, sarete anche in vantaggio rispetto alla programmazione. Quindi scegliete un giorno a settimana e fate tutti i vostri contenuti. Ora parliamo di un altro aspetto, questa volta più psicologico, per crescere con i reel su Instagram. Dovete partire! Cominciate a fare questi contenuti, non vi fate spaventare, non vi fate prendere dalla sindrome dell'impostore, perché ve lo dice uno che ce l'ha avuta, che per tanto tempo diceva eh non lo so però il contenuto, il video di qua e di là. Un conto è avere la voglia di migliorare, di fare roba sempre più figa, bella, curata, ok? Sindrome dell'impostore no, perché quel tempo che perdete e non impiegate nel produrre contenuti, un mese, due mesi, tre mesi, diventa un problema, perché in quei mesi, in cui non state facendo niente, perché siete bloccati dalla paura di cominciare, ci sarà magari un'altra persona che troverà proprio quella nicchia e produrrà dei reels a tema. E voi sarete fregati. Quindi avete un'idea che pensate che sia forte, che funzioni? Micro recensioni di videogiochi, psicologia, cucina, quello che volete, partite, cominciate. Tanto che cosa succederà? Che tra due mesi, i primi video vi faranno schifo, non vi piaceranno più, è normale, è così. Andando avanti migliorerete e se fate contenuti informativi, non vi preoccupate del giudizio degli altri, non pensate che se fate un contenuto dove inizialmente non parlate proprio benissimo alla camera, potete apparire come dei professionisti peggiori, poco preparati, che è una dinamica classica di chi fa questa tipologia di contenuti. Parlare alla camera è difficile. Cercate di migliorare. Ovviamente non dovete essere totalmente bloccati, perché se no è un problema grande, ma se non siete al top come quando lavorate con i vostri colleghi nel vostro studio, non fa niente. Tra tre mesi sarete al top, quindi partite senza paura. Una volta che però siete partiti, bisogna andare a limare tutte le problematiche e secondo me un aspetto chiave è la qualità. Siamo circondati da contenuti in una maniera incredibile, sempre di più, sempre più brevi. Basta aprire Instagram, basta aprire TikTok, YouTube, bombardati continuamente. E come si fa a spiccare in questo mondo pieno di contenuti? Prima cosa importantissima, la personalità. Ma la personalità e i contenuti informativi o contenuti in generale all'interno del video non bastano da soli. Serve anche la qualità. Capite come migliorare esteticamente i vostri contenuti. Capite dove piazzare quella lucetta colorata che fa cambiare un po' la vostra fotografia. Cercate di investire magari su una camera un po' meglio invece di utilizzare un vecchio telefono. Oppure avete il vostro super iPhone fighissimo ultimo modello, utilizzate quello. cercate di migliorare il montaggio, come parlate. Quindi tutti questi aspetti sono importanti in modo tale che il prodotto finito sia sempre più bello finché non troverete il giusto compromesso tra le vostre capacità comunicative, il contenuto e l'estetica. Questo è il primo video che ho pubblicato. Video social con un click su Premiere Pro. Hai appena finito di montare il tuo video bello complicato in 16-9 e lo vorresti adattare ad altre formatazioni social? Clicca con il tasto destro sulla tua sequenza e scegli Auto Reframe Sequence. All'interno di questa schermata potrai scegliere il tuo target aspect ratio con tutte le formatazioni. Quadrato 1 a 1, verticale 4 quinti per il feed Instagram, verticale 9 sedicesimi e orizzontale 16 noni. In automatico avrai una nuova sequenza 9 sedicesimi e il programma avrà sistemato per te le clip. Se vuoi farlo manualmente, seleziona la clip, vai su Effect Controls e nel menu Auto Reframe lavora sull'Offset e sullo Scale. Facile, no? Questo invece è uno degli ultimi. Effetto Screen 3D con Premiere. Importa lo screen e aggiungi l'effetto Basic 3D. Attiva un keyframe su Position e su tutti i parametri del Basic 3D. Imposta rotazione, tilt e distanza per avere il tuo effetto 3D. Aggiungi un secondo keyframe su Position per creare un movimento di camera. Aggiungi l'effetto Gaussian Blur per sfocare con una maschera ciò che non ci interessa. Tracca la maschera. Aggiungi anche un Lens Distortion con un valore negativo di curvatura. Ed il gioco è fatto. Seguimi per altri tips. Nel tempo c'è stata una ricerca per migliorare sempre di più il mio contenuto e nell'ambito del miglioramento un altro aspetto importantissimo è migliorare il proprio workflow, essere più veloci e produttivi. Perché è importante essere produttivi? Perché più si è produttivi più si hanno contenuti da postare all'interno della piattaforma. Come si fa a migliorare questo aspetto? Semplicemente organizzando il lavoro. Cosa significa questo? Faccio dei contenuti in cui parlo in camera totalmente nuovi ogni volta? Quindi mi serve una luce per illuminarmi? Che io ogni volta vado a rimontare la luce, la ring light, metto il telefono? No, la lascio lì in un angolo con il mio microfonino, la ring light. Quando devo girare, paf, metto il telefono dentro, giro e sono pronto. Molto più veloce. Dovrò montare quei contenuti da smartphone o da computer. Mi faccio un progetto con tutto il materiale dentro organizzato. Le grafiche, le transizioni, le musiche, le copertine da aggiungere. Quindi organizzazione per i vostri Reels. Se siete organizzati e precisi sia in produzione che in post-produzione, quindi in montaggio, andrete molto più veloci e sarete molto più produttivi. Quando arriverete al punto che avrete già postato un po' di Reels nel tempo, dovrete cominciare la fase di studio. La prima cosa da studiare sono gli insights. Gli insights sono quei dati che vi consentono di avere tutte le informazioni legate al vostro pubblico. Fascia d'età, sesso, orario in cui il vostro pubblico è più attivo. Sono dei dati importantissimi. Quindi il primo consiglio è di passare a un account business o creator per avere molti più dati. Cominciate a vedere quindi il pubblico come si muove, chi sono i vostri utenti, quando sono più attivi, quando interagiscono di più con voi. È un aspetto importantissimo. Bisogna imparare a leggere questi dati. Se volete dei dati in più, oltre a quelli degli insights di Instagram, vi consiglio due app fantastiche che sono Flick Hashtag oppure Ninjalitics. Mi raccomando, se utilizzate delle app esterne che siano app ufficiali, perché se cominciate a mettere delle app invece non ufficiali, scam, magari anche quelle che dicono vi regalano follower e quella roba lì che dovete assolutamente evitare come la peste, il rischio è il ban del profilo. Solo app terze ufficiali. Quindi cominciate a studiare il vostro pubblico e parallelamente anche i vostri contenuti in relazione al vostro pubblico. Ossia, quali sono i reels che piacciono di più? Perché quel reel è andato meglio e quell'altro no? E a partire dal successo dei vostri contenuti cominciate ad elaborare la vostra strategia. Esempio sulla mia pelle. Ho cominciato facendo dei reels tutorial su Premiere e DaVinci. Avevo circa 2000 follower e Premiere cominciava a darmi un po' di soddisfazione. Mi ricordo che per l'epoca feci il mio primo contenuto virale con un 10.000 riproduzioni che per me era tantissimo all'epoca, ok? Mentre Resolve non funzionava. Resolve eliminato. Quindi mi sono detto, da cosa può essere sostituito? Possiamo portare Photoshop, Photoshop mi piace, mi ci diverto da tantissimo tempo. È interessante portare anche questo aspetto della content creation, mettiamolo dentro. Fino a che uno esplode quest'estate completamente, fa circa 700.000 irrotte riproduzioni, insomma va benissimo. Quindi capisco che Photoshop piace. Però voglio aggiungere anche altro. E allora ci metto dentro anche la content creation da mobile, da iPhone, perché è una cosa che faccio. Quindi l'importante è trovare degli argomenti che non vi snaturino, ossia cambiate ma parlate sempre di cose che sono inerenti al vostro mestiere, perché se no basta fare i video trend di puro intrattenimento per avere più like, più follow, ma poi che cosa succede? Che quei contenuti se fate roba informativa ovviamente non sono interessanti, perché la persona vi segue per l'intrattenimento e le cavolate, poi va a scrollare e trova tutti i tutorial e dice ma io che ci sto a fare qui, me ne vado e vado a seguire qualcun altro. Scegliete sempre cose inerenti alla vostra nicchia, quindi questo è un aspetto chiave, andare a limare il contenuto in base anche alle esigenze del pubblico e trovare una media misura tra quello che volete portare voi e quello che ovviamente piace al pubblico e alla piattaforma. Adesso vi do un po' di dritte tecniche proprio sulla creazione di questa tipologia di contenuti. Prima cosa utilizzate la musica, la musica di Instagram, le transizioni di Reels, ok? Se utilizzate questi elementi dall'interno, anche i testi, la piattaforma vi spingerà un po' di più il contenuto. Tra l'altro sulla musica è proprio provato. Cercate quindi delle tracce musicali che magari siano di tendenza, potete prendere anche i trend che ci sono su TikTok dove sono praticamente dei contenuti simili a Instagram Reels, potete andare su Talkboard, li trovate tutte, le tracce che sono più di tendenza anche all'interno del nostro paese perché poi è tutto diviso per nazioni, quindi importantissimo. La mettete come sottofondo e aiuterà il pubblico innanzitutto ad avere un contenuto più piacevole da seguire. Ma Instagram vi spingerà di più il contenuto. I Reels possono esplodere anche molto tempo dopo, soprattutto all'inizio, se vanno male, fanno poche views. Lasciateli là, possono essere comunque utili per il pubblico e possono esplodere dopo tanto tempo, anche un mese. Quindi lasciateli là, è importantissimo. Se riuscite a fare dei contenuti più brevi è, tra virgolette, meglio. Più il contenuto è breve, più la persona sarà disposta a riguardarlo più volte. Quindi abbiamo detto musiche, transizioni e scritte, anche se con moderazione, interne a Instagram Reels. Cosa ancora più importante, create delle belle copertine. Le copertine vi possono essere utili, piuttosto che trovare voi la vostra faccia, come io ho fatto all'inizio. Infatti se scorrete all'interno del mio profilo c'è sempre la mia solita clip con la faccia tutta rossa, insomma, della prima edizione della mia intro. Può risultare molto meno interessante rispetto ovviamente a una copertina fatta ad hoc, magari su Photoshop, magari su Canva. Tanto trovate mille tutorial, è facilissimo. Quindi preparate anche delle copertine studiate per avere un contenuto tutto bello, dalla copertina fino alla fine del vostro video. Un'altra cosa importantissima che vi consiglio di fare è di seguire tutte quelle pagine di creator che sono esperti di Instagram. Infatti il mio punto di vista è quello di un filmmaker che fa questo e che sta imparando in questo processo. Quindi vi sto mettendo, diciamo, a disposizione il mio percorso a sfruttare questa piattaforma. E vi danno tutte le dritte per essere sempre sul pezzo e sapere tutte le novità. Quindi ad esempio il feed in ordine cronologico che adesso ritornerà, il fatto che le hashtag io quando ho cominciato ne mettevo 20, bisognava metterne 20, 18 se non ricordo male, adesso dalle 3 alle 5. Quindi vi consiglio di avere sempre tra i vostri follow queste pagine e anche la pagina creators di Instagram che è quella che mette proprio i cambiamenti e le novità del social. Quindi mi raccomando state sempre sul pezzo perché qua le piattaforme cambiano velocemente e noi dobbiamo imparare a sfruttarle. Bene. Sfruttate Instagram come un social. È una piattaforma social? Vuol dire che è importante l'interazione. Interagite con altri creator, con altri post. Vedete quello che pubblicano i vostri competitor. E parlo ovviamente di competizione sana. Vedete quello che fanno loro. Parlate anche con loro. Potete fare addirittura dei contenuti insieme, in duetto adesso ormai. Interagite con altri creator e interagite con la piattaforma. Andate nella pagina cerca, cercate ispirazione nella vostra nicchia, interagite con i contenuti che sono inerenti al vostro ambito. Per esempio tutta la mia pagina cerca che è foto, video tutorial, video making, film making, telecamere e ogni tanto moto, Harley Davidson, insomma perché mi piacciono. Però interagite con questa tipologia di contenuti. Voglio chiudere il video di oggi con un ultimo consiglio fondamentale. Quando fate dei bei contenuti che funzionano con un bel format possono essere relatable, quindi riutilizzabili anche su altri social. Fate dei bei Reels. Che aspettate a pubblicarli pure su TikTok? Non fate il mio stesso errore che non sono partito in contemporanea. Infatti se non ricordo male con i Reels sono partito ad aprile, mi sembra alla seconda metà del mese. TikTok l'ho aperto a settembre. Levatevi dalla testa che TikTok sia solo il posto dove ci stanno i balletti, i lip sync, le cose divertenti. Ormai ci sono tanti creator che portano contenuti veramente fighissimi di tutte le tipologie. Dovete solo prendere confidenza anche con quel mondo lì, ok? Però li fate già i contenuti, li potete postare, non avete il limite dei 30 e 60 secondi, andate. Stessa cosa per YouTube. Se fate YouTube, se fate dei contenuti lunghi come questo, io adesso comincerò a postarli anche lì o anche sui Reels. Piccole pillole, ok? Pensate che quei contenuti possono essere relatable, quindi riutilizzabili anche per altre piattaforme. Spero che tutti questi consigli che vi ho dato vi siano utili. Partite senza paura e vedrete che con un format giusto, dei buoni contenuti e un po' di organizzazione avrete successo al 100%. Il vostro profilo crescerà attraverso i Reels. Matematico. Ovviamente se non mi segui su Instagram trovi il link in descrizione e spero che questo sia il primo di una lunga serie di video in cui ti posso raccontare il mio viaggio su questo social e soprattutto spero di poterne fare tra un po' di tempo anche un bel video a tema YouTube per raccontare la mia esperienza, insomma, di crescita anche qui. Quindi dammi una mano a crescere anche qui, metti un mi piace al video se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando fate Reels e non vi dimenticate anche di YouTube che per noi Filmmaker è una piattaforma sempre importantissima. Al prossimo mercoledì, ciao!